Giovanni, siamo stati inviati dal Sinedrio di Gerusalemme dove molti hanno stima e rispetto di te. Essi avrebbero desiderato che tu venissi al Tempio, ma non hanno voluto distoglierti dalla tua missione, neppure per un solo giorno. Il motivo dell'invito era chiederti semplicemente questo. Chi sei tu? Per prima cosa vi voglio dire chi non sono. Io non sono il Messia. Il Messia deve ancora venire. Nel nome del Dio vivente, chi sei tu? Io sono la voce di un di uno che grida, grida nel deserto, preparate le vie del Signore. Ma se tu non sei il Messia e nemmeno Elia che ritorna, con quale autorità tu battezzi? Con l'autorità di colui che verrà dopo di me, di cui sandali chinandomi non son degno di sciogliere. Io vi battezzo con l'acqua, ma lui, lui battezzerà voi col suo spirito e col fuoco nelle mani allo scettro e con giustizia separerà i malvagi dai buoni.